Centro Anch'io Centro Anch'io Ben ritrovati a Centro Anch'io, apriamo questa puntata con un ritratto di Settimio Severo del II III secolo d.C. conservato nel Museo di Santa Giulia. Poi restate con noi per il proverbio in dialetto. Rinvenuto nel 1826 nell'intercapedino occidentale del Capitolium, questo ritratto fu realizzato nella tecnica della fusione a cera persa. Presente una doratura a foglie doveva essere inserito in una statua panneggiata, probabilmente in marmo, posizionata insieme ad altri bronzi nell'ara del foro e opera di una stessa bottega. I tratti fisiognomici, sopracciglia pronunciate, acconciature, barba, triplice, fiamma, hanno permesso l'identificazione con l'imperatore Settimio Severo, nato all'Eptismagna, forse un suo ritratto postumo. Rieccoci un proverbio quello di oggi, tipico di questo periodo. State a sentire. Avril avrilet and the cult and the fret. Ma direi, apriletto, un po' caldo, un po' freddo. Non un po', un day cult and the fret. Un giorno caldo, un giorno freddo, certo, certo, giusto. Gianni Del Bono, un grande campione locale e nazionale del rugby. Vero, vero. I suoi discendenti, nipoti, sono andati avanti con questa passione? Io i figli li ho tenuti lontani dal rugby perché io ho avuto la fortuna di giocare a bei livelli, però ho preso anche delle belle legnate. Allora i figli li ho tenuti alla larga. Ma i nipoti si vede che hanno sentito il richiamo del vecchio e giocano tutti e due al rugby e devo dire che sono bravini. L'allegnata è un, voglio dire, da mettere in conto, altrimenti avrebbe fatto il campione di ping pong, no? Infatti lo dicevo quando prendevo una botta, facevo meglio se andavo a giocare a ping pong. O a burraco. Senta, signor Gianni, gentilissimo, davvero molto simpatico. Avril avrilet and the cult and the fret. È una cosa meteorologica, insomma, che significa? Aprile apriletto, un giorno fa caldo, un giorno fa freddo. Vero o no? Sì. Aprile è così, no? La cosa, la temperatura non è ancora stabile per cui varia di giorno con giorno. Stiamo attenti allora. Devo stare attento. Anch'io tutti. Per cui bisogna sempre portare qualcosa, ti svesti ma devi portare qualcosa per rivestirti velocemente, no? Michela, questo è un proverbio meteorologico stagionale. Ok. Avril avrilet, in questo periodo, non the cult and the fret. Quindi, aprile apriletto, un po' caldo e un po' freddo. Un po', de caldo. Un giorno caldo, un giorno freddo. E oggi Michela cos'è? Il giorno caldo o il giorno freddo? Ma, c'è un po' di arietta però si sta bene. Meglio del solito. Posso dire una cosa? Voi donne, cioè c'è sempre freddo l'arrietta, ma non c'è arietta, si sta bene oggi? È che noi donne soffriamo un po' questa cosa dell'aria, così, ma ci tuteliamo, quindi... Tutelare e soffrire pure noi però, eh? Vabbè, ma è giusto che soffrano gli uomini. Questa qua ragazzi, ciao ragazzi. Avrile, avriletto e il caldo e il freddo. Oggi fortunatamente è una giornata abbastanza calda, però aprile come i mesi primaverili, insomma, sono esposti alle intemperie un giorno e al sole, al caldo, il giorno dopo. E quindi è così. Prendiamo quello che arriva. Grazie per essere stati in nostra compagnia, ci sono i ragazzi adesso da interrogare. Alla prossima, ciao! Sai cosa sono i sgalber? No. Non sai cosa sono? Sono una cosa da indossare, ovvero... Zoccoli di legno o con grossa pelle. Davide, forza Inter. Ma no, forza Milan. Centrondio 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 Centrondio